Come ogni anno si correrà di sera con partenza e arrivo a Piazza Duomo. Alle 20.30 gli atleti inizieranno questa 32esima Corri Treviso. I percorsi di gara toccheranno i luoghi più suggestivi della città con numerosi passaggi anche in Piazza dei Signori. Evento che ha già raggiunto oltre 500 adesioni, anche se le iscrizioni resteranno aperte sino a poche ore dal via. Sarà una giornata blindata in città per permettere in sicurezza la manifestazione. Venerdì dunque viabilità modificata nel cuore di Treviso con chiusura del centro storico a partire dalle ore 19. Il 3 giugno dalle 14 alle 24 è previsto il divieto di sosta con rimozione coatta del mezzo su Piazza Duomo, Via e Piazza Indipendenza, Corso del Popolo, Via Toniolo, Via Santa Margherita, Vicolo Carlo Alberto, Via Bergamo, Riviera Garibalti, Via Manin. Piazza Sant'Andrea e Piazza Filodrammatici saranno interdette al transito veicolare. Eccezione per i residenti, qui sarà comunque consentita la sosta dei mezzi. Ovviamente in Piazza Duomo fino al termine della manifestazione sarà vietata la circolazione dei mezzi ed ancora per gli automobilisti e per i mezzi di trasporto urbano dalle 19 e del 3 giugno non si potrà circolare lungo tutte le strade interessate dal percorso della gara che sarà transennato e sarà consentito l'attraversamento dello stesso solo nei barchi presidiati.